Prima di iniziare lavarsi le mani. Se si conserva in frigorifero si consiglia di tirarla fuori 5 minuti prima affinché raggiunga la temperatura ambiente al momento dell'uso. Cercate di assumere la medicina sempre alla stessa ora del giorno precedente. Nella dosi successiva è necessario iniettare la medicina in una zona diversa per migliorare l'assorbimento e ridurre eventuali disturbi. La confezione è formata da due siringhe di liquido, una fiala di polvere liofilizzata e un ago intramuscolare. Vengono fornite anche siringhe con gli aghi con un misurino per l'iniezione. Apriamo per prima la siringa con il liquido. Collochiamo l'ago intramuscolare in una delle siringhe. Inseriamo tutto il liquido nella fiala di polvere liofilizzato e l'agitiamo leggermente. togliamo l'ago e lo mettiamo nella seconda siringa di liquido. il medicinale è dunque pronto per essere iniettato. Per l'iniezione useremo le siringhe che fornisce la confezione con un misurino in unità internazionali. Aspireremo dalla fiala la quantità di medicinale indicata dal ginecologo. Disinfetteremo la zona con dell'alcol. Pizzichiamo l'addome formando una piega e iniettiamo la medicina con l'ago leggermente inclinato.